Ciao a tutti ragazzi, io vi chiamo Leonardo e benvenuti su LeoToys Oggi facciamo un nuovo gameplay di Fortnite Per farvi vedere un po' le novità Hanno aggiunto una trappola congelante Benvenuto ghiaccio, addio trito Ehm, beh Ragazzi io l'ho già provata però ve la farò vedere adesso in video E' la cosa più bella del mondo Allora Se sentite la musica Perché ho Questo Bebe 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 Mi faccio sentire meglio La vorrei tanto avere pure io però Non ce l'ho Non ce l'ho Ho solo la skin primaria del secondo passo Sono triste Vorrei tanto questo ballo qua Mi dispiace che non l'ho Che non l'ho avuto Spesso ho fatto questo Oggi Che per ora Ehm, tra i balli che mi piacciono Che mi piacciono Ok, e niente Questo video era per la trappola congelata E quindi partiamo subito Però C'erano le opzioni personalizzate Che ci sono più perché sono tutte queste Ragazzi Ehm, si sta prendendo l'energia adesso da un'altra aruna Che bello Però Voglio sapere se hanno sistemato quella cosa con i poteri Quindi per adesso Ci mettiamo qua All'isola Per vedere se magari anche qua Con questo 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 Si Eccoli Bene, bene, bene Non rimesti Dai Nige Si Vola Guardate Faccio Posso ballare Che bello Così vedo anche la mia faccia Mi servono degli occhi Oh Che bello Posso volare Ah, il cubo Anche Così mi fa rimbalzare Ok Sperimentavo Se il cubo Mi facesse Imbalzare Ancora Allora Qua Mi prendo Mi prendo di nuovo Il potere Finisco Attimo Il Max Lo so L'ho ripreso Prendo Perché Perché Ragazzi Sono caduti Uso di nuovo Quello lì Così risalgo Tre Due Uno Wii Aia Che ricordo Ragazzi Non riesco a giocare Oggi Bene Dai Ma perché Perché c'è il robot Si Si Però perché Uso C'è Potre Così c'è Cado di nuovo Almeno Blu Blu Allora Prendo Massi Massi Riali Riali Ok Ok Prendo Quello lì Rosco In fondo Così Andiamo Veloci Veloci Finacoli Uiii Aspettate Wow Wow Che volo Ok Ok ragazzi Ecco c'è il pinnaco Io sono andato Per vedere Se trovo Una nuova trappola Ma sono rimasta Bastia Sciocata Quello Pompato Mi pietà E io Pompato Preparito Ed è la mia Seconda La preferita Sono abbastanza Brava D'usarla Poi Splicate Allora Vediamo un po' Vediamo un pochetto Allora Dovremmo andare a cercare Qualche lama Roppino Roppino Non serve Ok Non so Allora Andiamo Di qua Allora Adesso voglio Un attimo Salire un po' Di più Allora Qua ci sono Due trappole Normali Faccio la frattura Vai Vado nel lago Che di solito Ci sono Miriarda Qui là Mi sono fatto danno Ma come è possibile Salta Allora Non è possibile Che non mi sono fatto danno Andiamo Veloce Scemi Perché? Lama Sopra un albero Andiamo Andiamo Oggi Ragazzi Non mi sento molto Invena Di fare I video Non lo so Perché Però Sapete cosa c'è Mi piacerebbe Tanto Mi sarebbe piaciuto Altro lama Tanto provare Questa trappola Sì Però Eccolo Per te mi si trappola Grazie Così Così scendo subito Grazie È stato molto utile Ecco Allora Vediamo Così Questo Lama Ciao Signor Lama Come sta Io sto bene Guarda Un po' di mal di testa Giusto Ma Non so se adesso L'avrai anche tu Forse si Guarda Ho anche un po' male All'occhio Forse Un po' troppo Allora Qua abbiamo Un nuovo Fortatile Che non vi ho fatto Un video Quindi Adesso sarà il video Di tutte e due le cose Quindi Queste nuove Fortatile Che Fortuna Che Fortunamente Mi sta Facendo Allora Per fortuna Ovviamente Questo c'è anche Nelle Battaglie Normali E non c'è solo Su palco giochi Perché Praticamente Anche Però Soprattutto Che Ci sono ancora Le rimbalzine Che vi fanno Rimbalzare Invece Nella Nella Battaglia Normale No No Ci sono Parto giochi Sì Perché Parto giochi Eh Semplicemente Perché Allora Adesso Voglio Far provare Cioè Voglio farvi vedere Questa nuova Caccola Andiamo al massimo D'altezza E poi Facciamo tipo Un percorso Appena Siamo in giù Ok Guardate Arriviamo al massimo Proprio Un altissimo Eccoci ragazzi Siamo al massimo Di altezza Si possono mettere Sulle scale Sia Sul pavimento Che sui muri Ma Le trappole Non si possono mettere Comunque Eccoci Andiamo Volevo salirti sopra Però Praticamente Ci andiamo su E vi fa Vi mette Vi chiaccio In piedi Oh Peccato E comunque Mettiamo Un'altra qua E poi facciamo in modo Che tipo Si ribagga Si ribagga Poi c'è un'altra qui Ok Aiuto Ragazzi Qui 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 Benissimo Ok Questa La potrei Togliere E poi E poi si Continua Sul rettilineo Allora Questa È una cosa Proprio tipo Assurda È bellissima Allora Mettiamo Un'altra qua E ne mettiamo L'altra anche Sulla scala Però Io voglio Salire un attimo Così Ok ragazzi Eccomi In cima Siamo Arrivati là E adesso Rifacciamo la pista Allora Guardate Cioè Adesso Riusiamo la pista Allora Qui Fanno vedere Le statistiche Delle trappole Ritardo innesco Un secondo È tempo Di ricarica Tre secondi E tre E due E uno E via Si spengono le luci Qua che ci risolta Ok Adesso Scendiamo Fino all'iPhone Dovremmo Rimbalzare Non credo Che prenderemo L'altra Lì Infatti Però Prendiamo questa E andiamo E non credo Non credo Che riusci No però Riusciamo Aia Come faccio Ragazzi È possibile La cosa più Impossibile Del mondo Perché Mi si rigenera Ogni volta Che Come faccio Devo prendere Sprint Vai Leo Corri 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 Più Non c'è che puoi Vai Ok Che fa No Non andare su Quell'altra Allora Ecco Non scingolare Qui Non scingola Questa cosa Non è possibile Ragazzo Uffa No Sono stupido Io Non so Ben usare No Ragazzi Le cose vanno Sott'acqua No Perché Ok Ora ce l'ho fatta Grazie Vorrei riparare Riparare Quello Non posso Allora Facciamo Robo così Poi tipo Si ricarica Quella No 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 Uffa Aiuto No È vero Lo posso Costruire Atteniamo Ok Perché Costruisco Così Tanto Così Ok Ci si rimette Quest'altra Così Vale Bene No Allora Vediamo Finché Arriva Quello Arriva Più O Meno Qui Ce ne mettiamo Un'altra Seguita Da Perduta Di Materiale Ok Sono italiano Ti prego È abbastanza Inutile Però Perché si Cade Però È divertente Usarlo Per Sporare In Demi Cui Prendiamo Un po' Fin dove Arriva Allora Qua 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 Si ricomincia A vittare Ciao ragazzi Ciao Come state Siamo qui Semplicemente Così Eccoci ragazzi Siamo di nuovo In cima E' la fine Della pesta Eccola In fondo Vediamo un po' 3 2 1 Via Si corre Via Allora Lì Abbiamo Quei Due Vediamo Come Li Prenderà Farà Un salto Si ricarica Vai 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 Corri Leo Corri La fai Leo Sì 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 Ce l'ho fatta E corri Leo Non si deve finire Assolutamente Nel buco Ma si vince Dall'altro Lato Oh yeah Ok E niente ragazzi Spero tanto che questo video vi è piaciuto Se vi è piaciuto il video Iscrivetevi Alla mio Canale Corro Orre Leo Così E ciao ciao da Leonardo E il mio bellissimo DJ E se ne avete notato Il piccolo bracchetto Ciao 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 Ciao